Il rilancio come obiettivo primario del PSI. Nella stanza azzurra dell'Hotel Majesty, i socialisti pugliesi hanno presentato un documento accordo in conferenza stampa in vista dei stati generali dei prossimi 22 e 23 luglio a Roma. In Europa i socialisti dovrebbero andare in molti paesi importanti come in Spagna, in Portogallo, in Germania. Crediamo che anche in Italia ci sia ancora bisogno di socialismo. Ecco il motivo per il quale oggi lanciamo questo appello in vista degli stati generali che si terranno venerdì, sabato e domenica a Roma per evidenziare l'importanza del socialismo in Italia in Europa. A livello regionale i socialisti si preparano a nuove sfide. Saranno le prossime elezioni a Bari, a Foggia e sicuramente come PSI allargato anche a tutto questo mondo i socialisti che rientreranno in due stati generali, saremo pronti a presentare il nostro simbolo, vorremmo essere visto. Punti chiave sono il recupero dei valori del socialismo italiano attraverso battaglie come un'occupazione e un salario adeguato per giovani e classe femminile, oltre a sostenere la crescita culturale delle nuove generazioni. Mi sento impegnato a sostenere l'impegno, lo sforzo di una nuova generazione che sta recuperando e rilanciando i valori del socialismo. C'è un grande bisogno di case nuove per le famiglie e soprattutto per i giovani e i giovani che non possono sposarsi e che non riescono a sostenere i pesanti mutui per acquistare una casa. C'è bisogno di lavoro e quindi mettere in moto il sistema delle costruzioni per dare occupazione. C'è bisogno di sostenere lo studio e la crescita culturale dei nostri giovani perché non devono sentirsi obbligati a lasciare il nostro paese perché restino nel nostro paese per mettere a disposizione i loro saperi e le loro capacità a disposizione dello sviluppo dell'Italia, in questo caso della Puglia.